L'edilmea nasce circa 60 anni fa con la vendita e distribuzione di attrezzature per il settore dell'edilizia, quindi gru e macchine. Nel 2010, a seguito della contrazione del mercato, è nata l'esigenza di ampliare la gamma dei materiali. Con l'intuizione del titolare del senore Emanuele Azzone, oltre alla distribuzione dei materiali e le attrezzature, si è deciso di introdurre materiali tecnici legati al restauro, risanamento e permeabilizzazioni e anche di ampliare con uno showroom e quindi incrementare anche le vendite dei prodotti di finitura, quindi sanitari, pavimenti, rivestimenti. Questo ci permette oggi di avere una gamma completa tutti i materiali legati al settore dell'edilizia e quindi offrire un servizio a 360 gradi ai clienti, sia per quanto concerne la vendita ai privati, ma anche per quanto riguarda la vendita alle imprese specializzate nel settore. L'obiettivo è vendere una soluzione legata alla problematica o alla tipologia dell'intervento che il cliente deve seguire e di conseguenza vendere un prodotto finalizzato alla risoluzione o di una tematica o di un problema tecnico oppure di un'esigenza specifica del cliente. Il punto di forza oggi è avere il personale sempre qualificato, sempre aggiornato, quindi personale tecnico, quindi consulenti di vendita e non semplici venditori. Per quanto riguarda la gamma dei materiali mirati all'esigenza del restauro di sanamento conservativo, ci permette oggi di dare un servizio mirato a quella che è l'esigenza del territorio. Chiediamo oggi a Heidelberg Materials una consulenza e una formazione mirata ai venditori per essere sempre più preparati nelle loro consulenze di vendita e soprattutto anche nell'organizzazione di meeting formativi anche per i progettisti finalizzato al miglioramento della progettazione mirata a quelle che sono le esigenze del territorio.